Intanto partiamo da quelle che erano queste tre date che facevano parte del cartellone di Anfiteatro Sotto le Stelle. Quanti artisti dovevano venire ad Arezzo? Allora, guarda, noi avevamo fatto tre giorni che sono il 10 di settembre, 11 settembre e 12 settembre. L'ultimo giorno, il 12 settembre, che vorremmo mantenere è una giornata proprio storica per Arezzo perché abbiamo un inedito del concerto di Giovanotti e chissà che ci sia qualche speranza di avere qualcosa di più che un video. Che è successo? Perché non si fa più questo? Perché noi abbiamo avuto una serie di promesse che non sono state mantenute dalla fondazione Guido d'Arezzo, dal presidente Barbetti. C'è stato detto inizialmente, pensate voi a portare gli artisti, quindi ci pigliamo noi in carico tutte le spese, voli, alberghi, ristoranti, comunicazione, pubblicità, quello che si fa per la produzione. Noi mettiamo il posto, quindi abbiamo parlato con la direttrice del museo e abbiamo l'anfiteatro, poi abbiamo parlato con quello che ha l'impianto e il palco, quindi abbiamo palco, impianto, audio e luci, abbiamo la sicurezza e tutti i permessi che ci vuole perché possa essere fatto questo evento. Se non che il giorno prima della conferenza stampa di presentazione di questo evento con il sindaco, la fondazione Guido d'Arezzo, ci viene detto guarda che non c'è più l'impianto audio luci, ma soltanto le casse, questo per noi vuol dire costi in più, chiamo quello del service e gli dico ma come sta la cosa? Eh sta così, non c'è neanche poi le casse, ah neanche questo, ok? Chiedo al sindaco di incontrarsi perché le cose, tra l'altro devo dire che il sindaco è stato sempre carino con me, ma se carino vuol dire che questo evento come ha detto si fa solo grazie a Mauro Valenti che ci ha dato lo spunto per poterlo fare dopo che abbiamo fatto il primo evento post-covid a Piazza San Domenico e che io sono una risorsa, poi questa risorsa a sto punto è quella unica che non prende niente perché qui mi togli questa cosa, ci si vede sabato e mi dice guarda per motivi di costi non si può più neanche dare i pomeriggi, bisogna fare solo la sera, quindi non è possibile mettere due litri d'acqua dentro una bottiglia da un litro, se sono 26 gruppi, non è che gli posso fare suonare tre minuti e poi basta. Secondo Valenti ci sono state invece altre iniziative come ad esempio l'Arezzo Music Fest 2020 ovvero l'edizione di quest'anno del Mango Music Fest che era stata annullata che hanno avuto indubbiamente un sostegno diverso. Ne è prova il comunicato stampa pubblicato proprio sul sito del comune di Arezzo dove l'assessore Tiziana Nesini dice testualmente non rinunciamo ad un appuntamento musicale d'eccezione cavalcando la voglia di aggregazione e di divertimento e destinando all'evento voluto dall'assessorata alle politiche giovanili del comune di Arezzo un contributo di 30.000 euro. Questi 30.000 euro perché non si mettono a bando e ti avrei potuto portare anche io Ben Harper o un altro? Chiedimelo o no? Invece per altri che sono dentro l'anfiteatro c'è tutto. Per me non c'è niente però in pubblico io so un fenomeno ma che genio che siamo il marco in sé tra l'altro il marco dell'Arezzo è anche del comune come era la sora qualcosa tutti la voglia e nessuno la piglia la sora Camilla ecco io sono la sora Camilla in questo caso però è un po' reggi 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 alla fine visto quando il latte mette a bollire alla fine viene fuori dopo un certo grado.